Oggi a Palazzo Ducale, in occasione della presentazione del libro Il bambino nella neve di Vlode Goldkorn, abbiamo intervistato Gad Lerner sulla questione israelo-palestinese e sul significato della memoria della Shoah. Quali sono le difficoltà di Israele a raggiungere una pace duratura con il popolo palestinese? Non si può rispondere in pochi secondi a una controversia che è di natura secolare, ormai con amarezza rilevo come dalle due parti quella che era una controversia di tipo nazionale e territoriale che implicava un modo laico di affrontare con le diplomazie una divisione del terreno, la costituzione di due stati, viene trasformandosi sempre di più in un conflitto religioso, quindi come tale assoluto, per cui chi molla profana la propria fede, questo imbarbarisce tutto. La memoria della Shoah come strumento politico per parlare delle tragedie dell'attualità? Naturalmente la memoria è qualcosa che deve essere accurata, scientificamente provata, ma oggi abbiamo una mole di testimonianze che è assolutamente vastissima, comprovata, ma a partire da queste testimonianze io credo che sia necessario domandarci ogni volta come noi ci saremmo comportati in quelle circostanze drammatiche, come avremmo affrontato il problema di quei discriminati, di quei deportati, di quei fuggiaschi e quindi imparare una lezione per l'oggi, come comportarci di fronte a gente che fugge dalle guerre, a gente che è perseguitata per la sua fede religiosa o per la sua etnia, o a gente che semplicemente è così disperata da voler attraversare il mare con i gommoni perché non sa come altrimenti vivere. Grazie. Grazie.